Colpo alla famiglia mafiosa di Bagheria. All'alba di oggi i carabinieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo a carico di otto indagati. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e vendita di armi clandestine, estorsione e lesioni personali aggravate. L'operazione, denominata Persefone, ha consentito di far luce sulla famiglia di Bagheria e su un tentato omicidio recentemente pianificato dai vertici della famiglia. I boss infatti avevano deciso di ammazzare un pregiudicato locale estraneo a Cosa Nostra, ritenuto poco incline al rispetto delle regole imposte dall'organizzazione mafiosa. Aveva osato sfidare pubblicamente il capo mafia, un'onta da lavare con il sangue. Per Fabio Tripoli, oggi infinito in manette e per maltrattamenti in famiglia, era stato firmato l'ordine di morte. Ubriaco e spesso intemperante, oltre a picchiare la compagna e il padre, l'uomo aveva messo in discussione l'autorità del boss, Massimiliano Ficano. Un atteggiamento sfrontato che andava decisamente punito. Così, su un mandato del capo mafia è stata organizzata alla spedizione punitiva. In sei lo hanno selvaggiamente picchiato provocandogli un trauma cranico e uno alla mano. Un pestaggio di avvertimento che però non è bastato a convincerlo ad assumere un atteggiamento remissivo. L'uomo, al contrario, si è armato di accetta ed ha iniziato a far sapere in giro di essere pronto a dare fuoco a un locale da poco inaugurato dal boss Ficano. Un affronto pubblico, davanti al quale è stata sentenziata la sua morte, con un omicidio pianificato nei dettagli, che soltanto l'intervento dei carabinieri ha scongiurato. Ficano, subito dopo aver dato l'ordine di eseguire l'omicidio, ha deciso di allontanarsi dal territorio, velozimilmente sia per costituirsi un alibi che per darsi alla fuga per il pericolo di essere arrestato, spiegano gli investigatori. In manette, nell'ambito del blitz, anche un anziano imprenditore edile, Carmelo Fricano, detto Mezzo Chilo, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa di Bagheria e in particolare allo storico capomandamento Leonardo Greco. In passato diversi collaboratori di giustizia lo hanno indicato come prestanome proprio del capomafia ergastolano.